Un nuovo pozzo è stato allacciato alla rede idrica comunale di Gioiosa Marea, servirà la frazione Marotta ed in parte anche la frazione di San Giorgio. Un altro pozzo realizzato ex novo e operativo in contrada Francari, immesso nell'acquedotto intercomunale, sarà a servizio anche delle contrade Maddalena e Pasolauro. Questi due rifornimenti si aggiungono a quello di contrada russa che già da settembre dell'anno scorso ha permesso di eliminare i disagi per l'approvvigionamento idrico a Russa e Pileci. Le operazioni di realizzazione dei nuovi pozzi sono cominciate ad ottobre dello scorso anno con la ricerca e la trivellazione delle falde acquifere. Verificata la potabilità dell'acqua, sono state realizzate tutte le procedure, concluse lo scorso mese di agosto, perché l'acqua venisse immessa nella rete idrica comunale. Altre vene sono all'esame dei tecnici e se le verifiche daranno esito positivo potrebbero essere operative entro la fine dell'anno. Restano ancora, viste le reiterate segnalazioni, i problemi della frazione San Giorgio, criticità che si trascina da troppo tempo e hanno messo in ginocchio sia le famiglie come anche la vocazione turistica di quella che un tempo era tra le località più gettonate dell'area tirrenica. Le ricerche idriche e le operazioni conseguenti sono state eseguite con la collaborazione di Sebastiano Dacampo, esperto esterno a titolo gratuito del sindaco Ignazio Spanò.